Per tutto il mese di agosto tra la strada sopraelevata al Domoro e l'ingresso autostradale di Genova Ovest ci sarà un nuovo cantiere che verrà installato in entrambe le direzioni di marcia in periodi differenziati. I lavori serviranno alla riqualificazione delle barriere di sicurezza laterali e interesseranno la direzione nord verso Genova Ovest dall'1 al 16 agosto, mentre in direzione sud dal casello verso la città si svolgeranno dal 14 al 31 agosto. Una scelta dettata dall'assenza dei cantieri maggiormente impattanti per il periodo estivo sulle tratte autostradali liguri, come prevede il piano estivo, ma che rischia di mettere in ginocchio la viabilità ordinaria nei giorni in cui il traffico, da e per il terminal traghetti, vive il periodo peggiore dell'anno. E lo dimostra il Consiglio di Autostrade che suggerisce agli automobilisti provenienti da 7 a 10 a 26 e diretti verso Genova di uscire a Genova Aeroporto per poi percorrere la viabilità ordinaria, mentre in alternativa alla stazione di Genova Ovest si consiglia di utilizzare ancora la stazione di Genova Aeroporto per entrare in autostrada, anche per chi sbarca dai traghetti. Il rischio è quindi che il traffico si sposti verso la guido rossa, intasando la viabilità ordinaria genovese. Credo che si possa ragionare con tutti, credo che in questo momento non si sia realizzato cosa significa andare in deroga per la costruzione all'interno di un torrente che ha visto fatti drammatici nella nostra città. Sicuramente questi cambiamenti climatici stanno aumentando, vediamo fenomeni che non c'erano in passato, credo che noi dobbiamo andare a regolamentare, a normare in maniera più intransigente per dare ancora maggiori garanzie. Credo che le opere vadano realizzate, che vada realizzata sicuramente una infrastruttura che consenta un miglior collegamento pubblico in Val Bisagno. Penso ci possono essere tanti tracciati, tanti modi per farlo e magari anche realizzando infrastrutture che non si fermino, alla bassa Val Bisagno ma proseguono e vadano più in alto, bisogna cambiare i progetti, non cambiare le norme e andare in deroga a quelle che sono norme di salvaguardia per quello che è uno dei problemi principali del nostro territorio, appunto quello idrogeologico. A neanche un anno dalla nomina presidente di Palazzo Ducale per Beppe Costa, arriva il divorzio con il direttore Serena Bertolucci. Il CDA ha deciso di istituire un nuovo concorso pubblico per scegliere la persona a cui affidare la direzione della fondazione nei prossimi cinque anni, aprendo alle preselezioni. La notizia in realtà non lascia troppo di stucco, dato che fin dai primi momenti è sempre stata palpabile una certa divergenza manifestata anche dalle frecciatine di Luca Bizzarri, colui che cinque anni fa aveva voluto a Palazzo il direttore felice, allora di Palazzo Reale. Da ottobre a oggi il Ducale ha portato avanti il programma costruito proprio da Bizzarri e Bertolucci l'anno precedente, ma si percepiva una certa freddezza tra CDA e direzione. Il Consiglio esprime apprezzamento e gratitudine per il lavoro oggi svolto dalla dottoressa Bertolucci, che non ha ancora sciolto la riserva sulla sua partecipazione al bando di imminente pubblicazione, scrive il Palazzo in una nota. Il mandato da direttore scade infatti il 31 dicembre di quest'anno e nulla vieterebbe a Serena Bertolucci di ripresentarsi al bando per ottenere il nuovo incarico, ma tra le righe di uno dei suoi post sui social si lascia intendere un epilogo diverso. La metà degli studenti usciti da licei e istituti superiori non ha mai approfondito in classe un argomento di storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, il dato emerso da un sondaggio condotto da Scuola.net tra i maturandi di quest'anno, ma la situazione è comune dai millennials alla generazione Z. Anni di piombo, Brigate Rosse, Guerra Fredda, ma poi anche le lotti di Martin Luther King e l'Uomo sulla Luna. Gli ultimi 70 anni di storia contemporanea vengono appresi a casa dalle letture personali o dai video su TikTok, ma soltanto da chi ha una passione vera per la materia. La riprova l'ha avuta anche Primo Canale, che nelle sue puntate di terza è andata a intervistare i giovani Liguri sui temi che Mario Paternostro racconta nelle speciali puntate dedicate alla storia di Genova. Non la so, taglia, taglia, perché questa proprio non la so. Abbiamo approfondito, però ora sono passati cinque anni, sono un pochino, però sono cose che bisogna sapere. L'hai studiata a scuola? Modena City Ramblers, 100 passi, le canzoni principalmente, a scuola poco. Cioè, le Brigate Rosse, cosa facevamo? Dobbiamo approfondire. Ah, forse le fai... no, basta, sto smaronata, non dirò altro. Ed è proprio da qui che è partita una petizione che punta a chiedere al Ministero dell'Istruzione di rivedere i programmi. L'iniziativa è stata lanciata da Frammenti di Storia, un progetto divulgativo nato a Genova nel 2018 che porta avanti un lavoro quotidiano con un team formato da giovani di tutta Italia. Assurdo che il programma di storia che abbiamo portato alla maturità sia lo stesso dei nostri genitori. Assurdo che i boomers abbiano ricevuto le stesse nozioni della Gen Z. Ci sono stati in mezzo più di 40 anni. La scuola di oggi prevederebbe già di arrivare a studiare fino agli anni 90, ma con la riforma Gelmini dal 2010 si dà carta bianca ai docenti, con l'obbligo della preparazione soltanto fino al 1945. La proposta allora è quella di arrivare almeno a dedicare tutto il quinto anno allo studio del Novecento, in modo tale da andare oltre il primo mezzo secolo. Anche in provincia di Imperia non può mancare una seria scuola di surf. Allora, quello che ti chiedo subito intanto è iniziare a praticare questo sport. Magari c'è un po' di curiosità, ma soprattutto è una scelta di stile di vita ben precisa. Assolutamente sì. Quello che una volta sembrava un'utopia, adesso è fattibile 365 giorni all'anno, attraverso delle scuole, in questo caso federali, o scuole riconosciute con dei materiali giusti e con gli insegnamenti giusti. La provincia di Imperia ha delle caratteristiche particolari per praticare questo tipo di surf, quindi la condizione ottimale è il vento, immagino. Tutta la Liguria in generale ha queste caratteristiche, soprattutto qua nella provincia di Imperia avendo delle esposizioni diverse, delle varie baie. Qua guardiamo a sud ovest, quindi prendiamo tutte le amareggiate di Libecio, Diano Marina prende tutto il sud est, quindi abbiamo dei promotori dove ci si può spostare in base al vento e alle onde. Quindi è ideale, soprattutto su spot, che sono i luoghi come la Borgo Marina, in una cornice fantastica, una spiaggia completamente di sabbia, quindi poter praticare in tranquillità, dentro dei muoli, quindi non c'è il rischio di uscire fuori e non cadere e farsi male su altri spot che piuttosto sono di roccia. A che età si può iniziare? Noi cominciamo ai 5 anni, ovviamente dietro... Si bevevi tavole immagino. Assolutamente, tavole adeguate per i bambini, con mute per i bambini, con istruttori qualificati che possono fare queste pratiche qua. Ovviamente quando cominciamo con i più piccoli, prima ci rimettiamo in condizione di saper nuotare, e quindi si parte tutto da quello, con altre attività propedeutiche al surf, quindi il nuoto, la gallegibilità, la sicurezza, essere tranquilli, cercare di capire, in contesto comunque sempre di sicurezza. Questa è la prima cosa sul surf. Più donne o più uomini? Ma ti dirò, sono misti, però le donne sono più tenaci, perché sono più umili, quindi ascoltano di più e la crescita dei numeri sulle ragazze e donne è molto più alta di quelle sui uomini, perché i uomini sono più autodidattici, pensano di essere più autodidattici, le donne sono più concentrate. Quanto incide ancora la figura del surfista? Assolutamente tanto. L'immaginario, soprattutto femminile a questo punto. È uno stereotipo quello, diciamo, perché però viene sfatato nel momento in cui tu cominci realmente a praticarlo questo sport qua, perché dietro c'è una filosofia di vita, sono viaggi, sono scoperte, quindi diventa anche una community, una comunità, che è la cosa più importante. Quindi l'idea delle scuole, soprattutto la nostra, è creare un punto di appoggio, un punto di informazione dove le persone in qualsiasi caso possono fare domande, chiedere e stare insieme. Negli stadi, nei tabelloni luminosi, sarà negli skybox, sarà nelle aree dedicate ai tifosi, è un marchio presente e importante con cui stiamo promuovendo la nostra regione Liguria ovunque. auguriamo tanto, facciamo in bocca al lupo, a tutte le squadre Liguri, è stato un anno complicato per lo Spezia e per la Samp, oggi io spero trovi in un equilibrio e di rivedere presto derby tra le nostre squadre. Lei non ama tanto parlare di calcio, è sempre rimasto un po' un grande appassionato, se non sbaglio, oppure lo osserva con grande... Io guardo molto volentieri il calcio, non sono un appassionato tifoso, ma sono un attento osservatore, è anche un passatempo, un divertimento molto bello. Evito di parlare di calcio, perché questa città ha un vissuto, un portato, una sensibilità per il calcio, è molto importante, le tifoserie hanno un pezzo della loro vita quasi legata alla squadra, c'è un rapporto simbiotico e lo stesso potrei dire per la curva dei tifosi dello Spezia che hanno sostenuto fino all'ultimo la loro corsa. Quindi penso che il governatore di questa regione debba guardare con uguale occhio e assoluta benevolenza a tutte e tre le squadre principali, ma anche poi Lentella e Sestri Levante che ha fatto una straordinaria stagione ed è stata promossa e ugualmente le aiutiamo tutte con questo sistema di promozione, ma anche finanziando gli impianti sportivi, alcuni delle quali Stadio di Spezia e Stadio di Sestri Levante stiamo finanziando per adeguarli ai campionati che devono essere giocati. Nel successo del Gena contro il Monaco ha fatto l'esordio anche Matteo Reteghi per la gioia degli oltre 12.000 tifosi presenti. Il mister Alberto Girardino si è detto soddisfatto della prestazione del bomber argentino, ma ha chiesto che venga lasciato tranquillo. Per quanto riguarda il mercato, il centrocampista della nazionale norvegese Dex Samp Morten Torsby ha atteso a Genova nelle prossime ore per le visite mediche. Infine la società ha ufficializzato che gli abbonamenti hanno raggiunto quota 22.000. In casa Samp invece, dopo i saluti a Manolo Gabbiadini, che si trasferisce all'Al Nasr e negli Emirati, si guarda l'amichevole di questa sera alle 20 contro l'Alessandria. La società è tornata sul ricorso presentato nei giorni scorsi al Collegio di Garanzia del Conia, attraverso cui il club ha di fatto contestato la cessione del 10% del paracadute per la retrocessione in B, 2,5 milioni sui complessivi 25, alle altre 17 società del campionato cadetto che non arrivano dal campionato di Serie A. Un ricorso che aveva attirato nelle ultime ore anche la reazione da parte del presidente della Lega di B, Mauro Balata, che aveva parlato di scelta sbagliata e adottata in un momento di transizione, ma anche di grandi difficoltà nella vita di questa storica società. Nel pomeriggio di oggi la Sampdoria ha diffuso un comunicato per cercare di chiarire la situazione, informando che la presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, attraverso il riconoscimento del prelievo del 10% sulla quota del paracadute, ha origini legali che afferiscono e sono in coerenza tecnicismi obbligatori dettati dallo stato attuale dell'accordo di ristrutturazione, e che queste ragioni, però, non sono riconducibili agli investitori e soci di maggioranza Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, che si sono fatti carico di una situazione aziendale molto complicata, ma che confermano di avere su questo argomento posizione e pensieri aderenti a quelli del Presidente di Lega Serie B. Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo stabile e soleggiato sulla Liguria, qualche velatura in transito ma senza conseguenze. La ventilazione ha tratti sostenuta, con Mar Ligure localmente mosso e specie a largo. Vediamo che cosa ci attende sulla provincia d'Imperia, anche qui sole protagonista, sempre con qualche velatura in transito e temperature lieve ripresa, con picchi compresi tra i 27 e i 29 gradi. Caldo ma senza eccessi. Situazione pressoché analoga anche su Savona, con cieli sereni o poco nuvolosi. La ventilazione ha tratti sostenuta, con Mar Ligure localmente mosso e specie a largo. Situazione pressoché analoga anche su Genova, con ampi spazi soleggiati. Temperature anche qui lieve ripresa, con picchi che si aggireranno intorno ai 29-30 gradi, con clima gradevole nelle ore centrali della giornata. Anche sul Tiguglio sole protagonista, sempre con qualche velatura in transito senza conseguenze. Anche sullo spezzino, cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie. Ci attende un martedì con sole prevalente sulla Liguria ma con molta variabilità. In particolar modo sulla provincia d'Imperia, con qualche possibile temporale sui settori interni. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.